let's go bitches this is power e questo è un nuovo video allora subito partiamo in italiano scusate questa piccola intro in inglese comunque voglio parlarvi oggi di una cosa particolare una cosa che a me mi sta molto a cuore alla fine a cui ho partecipato per due anni e qui una volta sono riuscito ad andare ed è il code world championship come sapete lo scorso anno ho provato a partecipare ma ho perso durante le qualificazioni europee contro il team inferno che poi su cui poi sono entrato tra l'altro quindi lo ricorderete sicuramente il team inferno che è arrivato dall'alto ottavo al code world championship comunque quest'anno un'altra volta si ripeterà il code world championship e sempre a los angeles nelle date che sono il 28 29 il 30 marzo in cui sarà di nuovo il torneo quello da un milione di dollari cos'è questo diciamo il code world championship è un evento in cui giocano in un evento offline una lana come viene chiamata in cui si affrontano quelli che sono i 32 vengono considerati migliori team da tutta europa come funziona diciamo il code world championship bene in ogni nazione ci sono delle qualificazioni in questo caso l'italia ha uno slot cosa si intende per uno slot bene vuol dire che ha la possibilità di poter avere due posti perché ogni slot sarebbero due posti che possono partecipare a quelle che sono le qualificazioni europee per poi eliminare un team che volerà quello vincitore al code world championship tutto ovviamente spesato dall'activision per prima cosa dovete sapere come ci si qualifica bene vi ho lasciato il link qui in descrizione per sapere come ci si qualifica e ci si qualifica sul sul sito game battles punto com è un torneo molto famoso per chi gioca il competti vuoi di ps3 quindi fa tornei solitamente lo conosce i settaggi ovviamente sono quelli mlg per chi si chiedesse cosa sono i settaggi mlg sono i settaggi maggiorly gaming che sono quelli che vengono usati da tutta la community mondiale sì perché ora esiste solo un rule set che è quello mondiale che è mlg comunque passiamo ai settaggi vi spiego quali sono sono blitz dominio e cerchi distruggi le partite si giocano al meglio delle tre dove c'è un diciamo sono diversi round round che ne so cent eccetera eccetera fino ad arrivare a round 16 tutte le partite sono al meglio delle tre fino ad arrivare al round 16 dove ci saranno solo 32 team rimanenti eliminazione ovviamente diretta e sarà in al meglio delle cinque al meglio delle tre le partite sono dominio blitz cerchi distruggi al meglio delle cinque dominio cerchi distruggi blitz dominio cerchi distruggi per quanto riguarda le restrizioni bene stiamo parlando di competitive quindi ci sono diciamo che ci sono delle restrizioni in quelle che sono le classi non si possono usare alcune armi come per esempio le msps o i lanciagranate o i lanciarazzi non si possono usare i fucili dsr cioè i marksman rifle quelli che avete visto nei miei video e nemmeno si possono usare gli scudi ci sono anche dei bumper quanto riguarda gli attachments come per esempio non si può non si può usare il semi automatico come il fuoco rapido non si può usare il fuoco automatico non so se come si chiama io ho il gioco in inglese quindi burst fire non si può usare il tracker sight cioè il mirino tracciante quello che avete visto diciamo nel nel mio video in quel mirino buggato che il toglierne in culo e così via non si possono usare tante altre cose che fanno impazzire tra l'altro in pubblica come lei ed il c4 eccetera eccetera e più tante altre cose è bannato anche la ghillie suite cioè la mimetica da uomo pianta o uomo foresta come la volete chiamare uomo di paglia eccetera eccetera perché è veramente buggata dato che ha una tonalità cromatica nelle mappe che non consente di vederlo e sembra tra l'altro abbastanza buggata oltre a questo sono bannate le streak d'assalto di supporto e anche alcuni perk in specialista questo bisogna sempre seguire i perk le restrizioni comunque nel link che vi ho dato troverete sia come registrarvi sia tutte le info per giocare quindi tutte le regole come funziona nel caso magari uno casca durante la partita eccetera eccetera le qualificazioni sono su 360 molti di voi storceranno il naso perché io vi ho detto che il competitive sarebbe passato su 1 ma fermi tutti ora vi spiego il perché praticamente questo periodo che c'è stato dall'uscita della one fino ad ora è stato dato alle persone per poter raccimolare i soldi questo perché perché le qualificazioni saranno giocate su 360 online su questo torneo che di cui vi ho dato il link qui sotto una volta che i team verranno qualificati parteciperanno a quella che è la gfinity la gfinity è un torneo un evento in cui parteciano di solito sempre i migliori team di tutto il mondo in cui i due team della nazione si sfideranno e uno verrà eliminato si giocherà però su one su xbox one e tutto questo tempo per chi viene giocato su 360 perché ancora la community afferma su 360 si sta dando tempo alle persone di comprare l'xbox one e quindi di diciamo di omologarsi a quello che è il torneo per poi fare il passaggio definitivo con il code world championship alla one quindi le qualificazioni online sono su 360 quando si andrà quella in lan europea sono sulla one e le finali a los angeles sono sulla one è un torneo secondo me è importantissimo non conta vincerlo o qualificarsi ma anche solamente partecipare fare una bella figura comporta tante tanta visibilità perché si viene visti da sponsor le partite vengono streammate si vengono messi in streaming su mlgtv per chi è un pochino pratico di queste cose mlgtv è uno diciamo dei siti dove vengono proiettati quelli che sono i tornei maggiori americani ma anche europei ora perché come sapete o non sapete la g fini di entrare a far parte delle mlg per chi volesse diciamo avere altre volesse fare altre domande vi invito a farle qui sotto ovviamente cercherò di rispondervi scusate se in questo periodo non ci sono molto ma sono veramente molto impegnato mi raccomando voglio che vi iscrivete a questo torneo perché ragazzi è veramente qualcosa di incredibile cioè non ho parole per descrivervi quanto è grande partecipano perfino celebrità a vederlo è un evento grandissimo viene creato proprio un palco viene streammato in diverse lingue ci sono diversi streaming a seconda del gruppo che gioca si viene trattati come re veramente si alloggia in alberghi a 5 stelle tutto pagato ovviamente delle cose incredibili e le persone diciamo investono veramente tanti soldi in questo evento perché è un modo per promuovere quello che è il diciamo il competitive anche se apparentemente sta morendo su questo gioco ora io ho molto criticato ghost e penso lo criticherò ancora ma questo perché perché rispetto agli altri god ha dato un taglio diciamo dal competitive e sta solamente mettendo dei soldi però quello che sta facendo ora verrà ora fatto una patch per ribilanciare il gioco verranno aggiunte altre cose ora vi dico una chicca forse verrà aggiunto una sorta di sistema lega per i clan però zitti io non vi ho detto niente quindi stanno cercando ora di fare qualcosa forse forse posso avere ancora un po di speranza su diciamo su quello che è il futuro di code spero che molti di voi parteciperanno questa cosa della 360 magari taglierà le gambe a molte persone però è l'unico modo che hanno per poter far giocare un alto numero di giocatori perché il cambio 360 one è veramente lento dovete contare che costa 500 euro la nuova console quindi non è proprio una cosa molto veloce da fare spero vi sia piaciuto il video spero vi scriverete in tanti al torneo perché mi piacerebbe vedere che la community italiana si rialza con un tempo su black ops 2 e vediamo tanti team che giocano mi farebbe molto piacere a me che al momento non sto giocando il competitive come sapete non abbandonato il competitive cercherò di partecipare al quad world championship ve lo farò sapere nel prossimo video come e cosa farò se sempre farò qualcosa se abbandonerò il competitive ovviamente ve lo farò non ho parlato di abbandonarlo ancora perché sono in una fase di stand by come sapete quindi spero vi sia piaciuto il video quindi let's go bitches vi voglio tutti iscritti ciao